Signore e signori, per la prima volta qui con noi, i Coma Cose! Resta qui! Cioè, se tutte le volte ve lo fanno, no? Sì. Allora, quando vi ho detto siete milanesi, sì ma anche no, perché voi vi siete trasferiti lì. Sì, siamo due provinciali, doc. Cioè, ma voi che consigli dareste a dei ragazzi che si trasferiscono proprio a Milano? Beh, uno è essere molto veloci, molto veloci perché, non so se hai visto lì, la mattina soprattutto, c'è questa corsa spasmodica ai mezzi di trasporto in primis, ma in generale, tutti corrono. Che almeno funzionano quantamente. Quindi devi essere veloce, corri, cioè sembra un po' quella cosa della giungla, vai e corri, però è così, Milano devi andare. Sì, sì, ti fermi e ti travolgono. Sì, ti calpestano, ti travolgono. Mi fate un tutorial per andare su a Milano e dire, sono i sbatti? Zio, sono i sbatti? Secondo me, guarda. Cioè, speri, ve lo posso fare? Se tu sei sex, sì. Senti zio, sono i sbatti. Sono i sbatti. Va bene? Cioè, non ce la posso fare anche, forse si dice anche un po'. Eh, ce la posso fare. Dici, programma per parlare dei cazzi tuoi. Sì, allora. E' tuo, cioè nel senso. Oh, meno male. Oh, ragà, avete capito? Ci sono voluti come cose per dirvi come funziona, non so se. Grazie ragazzi, non a caso avete fatto Sanremo. La cosa bella che mi piaceva di Sanremo è che io ho visto proprio voi per come vi conoscevo. Sì, sì, ma no, infatti, guarda, i nostri fan hanno reagito bene, perché poi non facevamo cose da un po', perché appunto siamo stati fermi nell'ultimo anno e quindi un po', secondo me, la voglia di anche, boh, sentire una canzone nuova e è andata bene. Avete intolleranze alimentari? Eh, no. Liscio o gasata? Gasata. Boxer o slip? Boxer. Parmigiano o pecorino? Pecorino. La patrimoniale? Sì, no. No. Leopardi o Manzoni? Leopardi. Lilli Gruber o Annunziata? Lilli Gruber. Lettino o Spiaggia Libera? Spiaggia Libera. Chiazza di sogo sulla camicia? Pretrattate? Eh, no. Cosa fa un gallo al mare? Galleggia. Sì. Yeah. Tre, due, uno, insieme. Yeah. Signore e signori Albano e Romina, no, i Comacose. Cosa fa un gallo al mare? 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 Grazie a tutti.